Allora, io sono la dottoressa Di Francesca, sono una psicologa, consulente comportamentale e mi occupo a Palermo del coordinamento del servizio dello 01, un progetto dedicato a 400 utenti su tutto il territorio palermitano, quindi città e provincia. Oggi siamo qui in quanto il nostro progetto, l'idea del nostro progetto si sposa molto bene con le tematiche del convegno di oggi, ovvero quelle che riguardano una modalità diversa, alternativa e innovativa dei sistemi di cura rivolti a ragazzi, a bambini e a persone con diagnosi di disturbo dello spettro autistico. Il nostro progetto si avvicina molto a queste tematiche perché il tema centrale qui è un cambio, è una rivoluzione proprio dal concetto vecchio di presa in carico, quindi la psichiatria classica quindi nei sistemi, nelle istituzionalizzazioni e con il desiderio a livello nazionale, e noi già ci stiamo provando a livello locale, di cambiare la linea e portare l'intervento in ambienti naturali. L'ambiente naturale può essere a casa ma è anche a scuola, i contesti di vita, quindi noi facciamo attività nei bar, organizziamo anche degli aperitivi, insomma cerchiamo di coinvolgere i ragazzi facendoli entrare in un'ottica della normalità perché fondamentalmente anche qui è stato detto che in realtà la differenza tra normale e anormale e la neurodiversità in realtà è comune a tutti, quindi questo viene fatto, il nostro progetto ha portato avanti un principio fondamentale che è quello del diritto alla felicità che hanno, perché tutte le persone hanno il diritto di vivere in maniera diversa.